La morsa della crisi del commercio tarantino resta un tema di strettissima attualità. È grave la situazione dei commercianti, molti dei quali costretti ancora a tenere le attività chiuse. Nei giorni scorsi il presidente di Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande, ha fatto il punto sulla situazione in videoconferenza con l'amministrazione comunale di Taranto. Sono stati evidenziati i punti principali da affrontare a breve scadenza. Noi pensavamo che dopo il 4 ci fosse l'apertura di tantissime altre aziende. Purtroppo così non è stato e noi siamo convinti che chi, e lo ripeto con forza, la richiesta fatta ai comuni non è contro i comuni. La richiesta fatta ai comuni è una richiesta di partecipazione, di segnale, perché credo che la gente in questo momento sfiduciata che ha una situazione drammatica economicamente parlando che fino a due mesi fa non aveva, qualcuno gli ha detto devi chiudere perché così è. Cioè gli ha chiesto di chiudere perché debba prevalersi la salute pubblica ed è giusto che sia così. Tant'è vero che noi addirittura siamo stati quelli che, prima che partissero le chiusure, abbiamo anticipato di qualche giorno le chiusure, siamo stati i primi a chiedere la chiusura. Oggi chiediamo l'apertura, chiediamo un risarcimento del danno perché noi riteniamo che le aziende che sono state chiuse debbano essere accompagnate e ristorate dal danno avuto e per il danno avuto e quindi di conseguenza chiediamo ai comuni una vicinanza che sia una vicinanza anche di segnale forte, importante, dove al fianco delle imprese che stanno soffrendo ci siano i comuni e i sindaci che insieme a noi devono fare questo percorso. Questo è in sintesi la nostra richiesta.